15 giri da percorrere, la prima campana a meno 13, prima segnazione e punteggio a meno 12 e poi giri pari la caduta in curva, atleti attenzione alla caduta, la curva dopo il traguardo mino 13 intanto, prossimo giro, segnazione e punteggio attenzione all'altra caduta sul rettilineo d'arrivo vieni, 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 segui 3,25 metri, 3,5, 6, 1 punto, fino a 11 e poi vai lunga, lunga 108, 2 punti, 47, 1 punto attaccati, attaccati 19, 2 punti, 22, 1 punto allievi e junior all'appello atleti allievi, maschi femmini e junior, maschi femmini e sottocattiamo per l'atleti meno 7 intanto, passato 22-2 punti 19-1 punto 19-2 punti 19-2 punti 19-2 punti 20-2 punti 20-2 punti 9-3-6, 2 punti 6-3-6, 2 punti Proviamoci ragazze 5-3-6, 2 punti 2-9-9-1 Fuori, fuori, fuori Fuori Grazie 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 Grazie